Mi sono trovato veramente con i miei concittadini a tutti gli effetti perché erano un centinaio di bambini, delle elementari, delle prime medie di Caltagirone che è un po' la mia città come Gran Michele, sono due paesi vicini, ma là io ci sono stato tantissime volte, ci ha studiato mia moglie, ci abitano mia cognata, suo marito, le sue figlie, tanti altri amici, tantissimi amici. La cosa che mi ha fatto piacere è che molti ragazzini all'orecchio mi hanno portato i saluti dei loro genitori che sono miei carissimi amici e la cosa che mi ha fatto piacere è questo inno della Sicilia, cantato, questo orgoglio, il fatto che hanno confezionato una bandierina giallo-rossa con la Trinagri, la bandiera della Sicilia e che hanno parlato dell'orgoglio di essere siciliani e che siano venuti a Palermo a fare la gita scolastica, come dire, si tratta di un progetto importante che loro realizzano a Palermo. Se tutti i ragazzi premessero perché i loro professori, piuttosto che portarli in gita a Madrid o a Barcellona, città molto belle, o a Vienna o a Parigi, città bellissime, li portassero un po' in giro per la Sicilia, dove di città più belle che quelle che abbiamo detto, più importanti, più significative, perché qua si è formato il nostro popolo, qua si è sviluppata nei secoli la nostra storia, qua ci sono le vestigia, le tracce, i monumenti, i beni culturali, l'aria anche, il colore di questa nostra terra che va conosciuta per essere meglio apprezzata, perché questo orgoglio di essere siciliani cresce, è una cosa molto importante. Poi mi hanno chiesto la firma sullo statuto, il cosiddetto autografo, lo statuto Valletto è attuato, io gli ho ricordato che un grande calatino, non soltanto Stulzo o Scelva, ma Milazzo è stato un Presidente autonomista di questa regione, gliene hanno fatto vedere di tutti colori, io sono un po' di Caltagironi anche io, anche se per la verità io sono di Gran Michele e quindi quest'altra seconda esperienza autonomista molto contrastata, mi auguro che segni l'inizio di un percorso che chiunque governerà domani sia portato avanti all'insegna dell'autonomia, lungo questo solco è importante.